Allora amiche e amici appassionati di Grande Palla Spicchi, buonasera e benvenuti su uno spostiale ragazzi, primo video dedicato alla Supercoppa italiana Ho visto già un po' di partite però mi son voluto focalizzare su quella che ha visto giocare appunto il banco di Sardegna Sassari La mia squadra personale del cuore per quanto riguarda la palla a canestro che si imposta col punteggio di 114-71 Nel primo match di questo gruppo diciamo del sud per quanto riguarda la Supercoppa italiana 2020 Ricordiamo innanzitutto che le 16 squadre di Serie A sono state viste in 4 gironi in base alla posizione geografica E per evitare avanti e indietro da parte della squadra appunto isolana come Sassari E' stata fatta, è stata organizzata una mega bolla all'interno del Geovillage di Olbia E quindi le partite fra Sassari, Roma, Pesaro e Brindisi verranno tutte giocate appunto al Geovillage di Olbia Nella regione isolana della Sardegna Che cosa ne penso di queste partite? Innanzitutto c'è da dire che Roma non ha ancora tutti gli stranieri C'è Roma veramente ha giocato con una squadra ignobile Una squadra veramente ignobile Dove il miglior realizzatore è Tommaso Valdasso con 17 Seguito da Luca Campogrande con 14 punti Però che cosa ne penso? Penso che è una squadra che Piero Bucchi dovrà plasmare bene su immagine e somiglianza Perché sappiamo benissimo tutti la storia della Virtus Roma Che fino all'ultimo istante era in dubbio se andare di autoretrocessione Quindi in A2 oppure di restare nella massima serie Viste le difficoltà economiche del padron Toti Alla fine si è deciso per la permanenza in Serie A Ma comunque il tempo per fare la squadra non c'è stato Ancora molti stranieri non hanno potuto esordire Per quanto riguarda la squadra del Poz Gianmarco Pozzecco Devo dire che ha provato vari quintetti Ha provato vari quintetti Non so perché non abbia giocato Kaspar Trayr Ha giocato solo un minuto e 40 La nostra guardia Quella che dovrebbe essere in teoria una guardia titolare Ho visto che ha provato molti giocatori in posizione Non idonea allo stesso Abbiamo giocato magari con un quiltetto un po' più piccolo Senza Bilan Con la presenza in contemporanea di Benzius E di Filipe Kruslin Anche se comunque devo dire che Benzius mi è piaciuto tantissimo Veramente buona mano da fuori 50% dall'arco 60% dentro l'arco Con anche un 1 su 1 ai liberi Però veramente un buon tiratore da 3 Lui che è veramente molto versatile fra il ruolo di ala Ma può anche svolgere il ruolo di centro all'occorrenza Jason Barnell mi piace tantissimo Lui parte come ala piccola Però l'ex giocatore di Cantu Ha fatto vedere comunque di avere un ottimo atletismo Sicuramente sopra la media rispetto agli altri compagni di squadra E l'ha fatto vedere buttandosi su ogni pallone E cercando sempre di ottenere quello che voleva 23 di valutazione per lui Miro Bilan ha fatto 42 di valutazione 8 su 9 da 2 4 su 4 i liberi Ha fatto 20 punti Ha sbagliato un solo tiro Veramente Bilan ha fatto quello che voleva Bilan ha fatto veramente quello che voleva Perché Cioè Cercavano ogni volta di prendere l'imbalzo C'era sempre Bilan Sempre e comunque Bilan Quindi Questi sono i 3 giocatori diciamo promossi Buona la prova anche della coppia Spissu Pusica Che sono stati anche schierati per un breve lasso di tempo assieme Loro che in teoria dovrebbero essere nel ruolo di uno Nel ruolo di playmaker Invece sono stati appunto schierati insieme Per un discreto lasso di tempo da coach Pozzecco Buona anche la prova di Marco Antonio Re Che ha messo a referto 7 punti Solo una tripla segnata da lui su 5 tentativi Però devo dire In 19 minuti Per un classe 2000 Io sono qua a fare il video Invece lui a giocare nella Dinamo Sassari Non male come pro Certo Poteva andare meglio Però è comunque Un giocatore Non da rotazione De Vecchi Mette dentro una tripla Tranquillissimamente Ha giocato molto più per la squadra Che per ambizioni personali Per quanto riguarda La classifica del girone Quindi ora abbiamo Sassari Roma Sassari a due punti Roma a zero A due punti c'è anche la vittoria Libertas Pesaro La nuova vittoria Libertas La Carpegna Prosciutto Allenata quest'anno da Yasmin Repecia Riesce a portarsi a casa La partita contro Le Picasa Brindisi Di coach Frank Vitucci Con il risultato di 83-71 Attenzione perché Pesaro Non è La squadra Dello scorso anno A questo punto Ci saranno Altre Due partite Per quanto riguarda Questo girone di Supercoppa Per quanto riguarda Questo girone di Supercoppa Perché comunque c'è da dire Che Si giocheranno queste partite Tutte Sabato Mi sembra Per questo Per questo rigirone Avremo infatti Il 4 Alle 20 e 30 Brindisi Contro Sassari Quindi nella stessa giornata Ci dovrebbe essere Anzi Sassari contro Brindisi Quindi nella stessa giornata Ci dovrebbe essere L'altra partita Se non erro Vabbè comunque Lo vedremo più avanti Ora non ho qua il calendario esattamente No C'è Pesaro Sassari Il 5 E poi Vabbè ragazzi Sto divagando Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao